il film che vi racconteremo adesso con zero spoiler anche perché uscirà tra qualche settimana è addirittura finito sulla maglietta di Flavia Capone quindi è proprio è proprio arrivato al bersaglio si apre letteralmente con Sweet Dreams dei Euros no le Eurosmith sono quegli altri Eurythmics sono questi ma all'interno ha anche altre derive sonore perché sono è un film anzi un film di 164 minuti ma all'interno ha tre film uno dentro l'altro è un film a episodi una cosa poco consueta perlomeno per quanto riguarda i nostri occhi forse una cosa recente l'abbiamo vista in ambito italiano con i peggiori giorni e i migliori giorni però appunto ancora non capisco perché non si facciano probabilmente per motivi produttivi a questo punto il produttore potrebbe dire vabbè a questo punto espandi una di queste tre storie e faccio un film lungo però Orgos Lantimos ha deciso di andare in controtendenza e ha deciso di andare in una tendenza veramente dove allora gli ingredienti fondamentali di questo film Kind of Kindness appunto sono primariamente il divertimento l'essere fuori di testa di Lantimos ma anche di tutta la compagnia di giro che si è raccolta intorno all'Antimos probabilmente si è anche conosciuta sul set di Povere Creature perché il film esce a pochissima distanza da neanche un anno dalla prima proiezione leggevo che è stato girato durante il montaggio di Povere Creature esatto quindi più o meno il rapporto temporale è questo i protagonisti sono praticamente quasi gli stessi e Emma Stone c'è Emma Stone c'è William Defoe c'era Margaret Qualley che in Povere Creature compare diciamo verso la fine non tantissimo però c'è in più troviamo Jesse Plemons che è il mio preferito nonché come dico sempre l'unica cosa bella del potere del cane in Povere Creature c'era anche Orgos Stefanakos Orgos Stefanakos è quello che faceva lui il Povere Creature interpreta George in Kind of Kindness fa RMF ah ok ok va bene chi è RMF? non si può dire però ho scoperto anche che c'è Hong Chu salute era brutta brutta sì che invece troviamo anche io infatti me la ricordavo ovviamente sono stato tutto il tempo a chiedermi dove l'avessi già vista come sempre in The Whale sì in The Menu sì eh sì sì queste basta perché sono quelli che ho visto però però me la ricordavo Kind of Kindness è presentato al festival di Cannes in se non sbaglio fuori concorso sì uscirà praticamente in contemporanea mondiale da giugno in poi in Italia arriverà eh subito dopo in contemporanea appunto ehm ah no un attimo ma è in concorso? sì è in concorso a Cannes non è fuori concorso bene bene ha pochissime chance di vincere quello che con molto bene però è un film estremamente divertente si respira divertimento proprio nell'affiatamento tra tra i protagonisti che si distribuiscono su tre trame io prendo come riferimento la pagina Wikipedia di The Kind of Kindness che sintetizza la definisce una favola contemporanea mettendo anche un po' di luccichino intorno ad una ad una qualcosa che ha ma sì una favola perché c'è sempre un po' quella sensazione di tempo sospeso dei film di Lantimos che alla fine dici sì ma tanto non è nella realtà cioè è un'iperrealistica su alcune cose è iperrealistico nel senso che sembrano veramente tutto ciò che uno vuole nascondere sotto al tappeto e non far vedere esce fuori dall'altra invece sembra una roba totalmente frupparto di una mente folle e quindi dici no ma non è possibile noi che siamo amanti specialmente tu delle raccolte di racconti possiamo definire Cane of Cannes la prima raccolta di racconti di Orgos Lantimos dove nel primo racconto si racconta la storia di un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della sua vita sì mi sembra giusto uno due secondo racconto un poliziotto inquieto perché la moglie scomparsa in mare è tornata e sembra essere un'altra persona ok secondo film dentro Cane of Cannes terzo film una donna determinata a trovare qualcuno e che sfruttando abilità psichic psichiche diventa un prodigioso un prodigioso leader spirituale non è propriamente così questa secondo me questa l'hanno copiata da qualche parte comunque è vero che c'è una donna che cerca qualcosa molto e c'entra una setta basta chiudendo questo discorso possiamo dire che in molte recensioni ho sentito parlare di di un film che parla ai fan del primo Lantimos cioè di quello degli esordi di quelle un po' diciamo cupo cupo nel senso che esplora dei lati della appunto della realtà ma non solo dell'animo umano abbastanza neri se non fosse che secondo me in questo film c'è proprio quella sensazione bagnata nei panni di O coi panni bagnati in Hollywood nel senso che bella definizione ci sono c'è un cast che ovviamente sposta l'attenzione perché comunque c'è quella persona lì tra l'altro c'hai già lavorato hai lavorato in un certo modo per cui noi siamo anche un po' viziati da aver visto quelle stesse persone dieci mesi fa ultimamente in più c'è quell'atmosfera scansonata di chi ha fatto i soldi diciamocelo lo dico in maniera un po' diretta ma credo che un po' sia questo però li rinveste li rinveste però è come dire vabbè io però adesso la butto un po' in caciara perché? perché posso permettermi di farlo allora all'inizio c'era un prendersi sul serio secondo me un pochino più più forte no? non lo so sicuramente Lantimos gioca con i suoi pupazzetti nuovi e i suoi pupazzetti nuovi sono Emma Stone Jesse Plemons William Defoe Margaret Qualley e compagnia letteralmente cantante non so se sei d'accordo che effettivamente il paragone più simile sia quello con Dogtooth ho trovato delle somiglianze tra l'altro sono contento che il primo film di Lantimos che abbiamo raccontato in questa trasmissione tra l'altro è anche disponibile sul canale YouTube quella recensione è proprio Dogtooth con la sua riuscita in vista ovviamente della riuscita di Lantimos al cinema però questa dimensione di gioco mi piace veramente tantissimo mi sta lavorando tantissimo questo film nella mia testa proprio in virtù di questo innesco perché dei tre film dei tre mini film dei tre racconti brevi di Kind of Kindness che appunto sono tipologie di cura di gentilezza io comunque non farei io trovo ovunque questo parallelo con Povere Creature che però io non farei cioè? perché no nel senso che fanno tutti il confronto ah dove Povere Creature era stato così questo è così però Povere Creature non è una sceneggiatura cioè nel senso io non so questa sceneggiatura da dove arrivi da loro però quello è un libro è un libro che esiste per cui per quanto tu possa è un libro tra l'altro molto particolare con una storia molto particolare per quanto tu possa essere fantasioso nella realizzazione la storia è un'altra cioè esiste già di per sé ed è già abbastanza diciamo complessa di per sé tant'è vero che lui l'ha forse anche semplificata possiamo dire quindi io non non credo che si possa proprio fare un paragone purtroppo il fatto di avere parte del cast in comune ti porta a questo ma non sono paragonabili secondo me questi due film in aiuto a questa a computare questa teoria andiamo a leggere chi sono gli autori della sceneggiatura che sono letteralmente Orgos Lantimos il regista e anche autore della sceneggiatura insieme ad F.T. Miss Philippou che è il suo sceneggiatore di riferimento che è stato nominato all'Oscar per la sceneggiatura originale di The Lobster non ha fatto Philippou la sceneggiatura di Povere Creature quindi già però l'ha fatta di Doctus quindi se vogliamo creare e anche del sacrificio del cervo sacro esatto esatto i film i tre film sono veramente la cosa più vicina all'occhio pop potrebbe essere una serie di Black Mirror sì ma in salsa l'antimos sì no è lui è molto lui negli Stati Uniti che appunto possiamo tenere come riferimento anche con le dovute distanze il film è vietato i minori di 17 anni per strong disturbing violent content ah vabbè strong sexual content full nudity and language sì ok sì ci sono nudità sì ci sono nudità che però mi fanno ridere ma soprattutto torno al discorso di prima troverete Emma Stone in un film diversissima del film seguente e in quello dopo ancora ancora più differente per non parlare di William Defoe e Jesse Plemons che Jesse Plemons praticamente sembra un'altra persona sono tre persone differenti questo film anzi questa tipologia di film perlomeno non voglio generalizzare voglio andare dritto su Kind of Kindness racconta anche in luce mettendo appunto in prospettiva quanto può essere complicato o anche viziato il lavoro anzi quello che noi spettatori vediamo del lavoro dell'attore del regista anche dello scenografo dello scenografo oltre che dello sceneggiatore vedendo un racconto di però sta piovendo sta piovendo forte forte molto forte però un racconto di 90 100 minuti 120 minuti e qui invece abbiamo tre racconti in 164 minuti quindi come possiamo pensare come possiamo ci accorgiamo molto presto le differenze e anche gli scarti anche atletici di un'interpretazione come cambia il suo accento come cambia proprio il suo fisico una barba un baffo come cambia anche l'aspetto e l'impressione un vestito addosso a Emma Stone nel film seguente è un'altra Emma Stone con un altro abito insomma si respira il cinema io sottolineo anche molto la capacità di Margaret Qualley secondo me lei è un'attrice molto interessante che in questo caso tira fuori quella vena un po' tipo la bambola la bambola horror con l'occhio spalancato ecco quell'effetto lì non dà l'effetto di una serie televisiva o meglio di quelle serie dove ogni puntata è diversa se l'autore gli autori sono gli stessi forse può essere simile ma qui siamo davanti a un esperimento quasi teatrale guarda io trovo molto azzeccato il paragone con i racconti mi sembrano effettivamente tre racconti tra l'altro con la caratteristica del racconto cioè quella di essere fulminante di darti una risoluzione che ti sconvolge secondo me funziona molto ecco se dovessi dire cosa è stato più sconvolgente per me tra questo e Doctut sicuramente Doctut ha una come dire una pervasività una forza che questo nonostante sia appunto frammentato e quindi dovrebbe essere più fulminante non ha non ha perché come ripeto è un po' allungato dalla patina hollywoodiana secondo me però questo è un po' quello che succede quando un regista passa dall'essere in un ambiente totalmente diciamo non dico indipendente ma comunque lontano dai fasti di hollywood a invece esserci dentro con tutte le scarpe l'industria greca è imparagonabile è capito è un po' un altro mondo in più appunto c'è stato un passaggio che probabilmente in questo in questo prodotto non è ancora al 100% perché quando giravano Kind of Kindness povere creature era il montaggio come hai detto prima quindi non era stato ancora non era stato visto a Venezia per esempio nel settembre del 22 se non sbaglio sì sì ma appunto tutti i premi tutto il clamore è arrivato quando Kind of Kindness era il montaggio c'è da dire che anche le musiche sono dello stesso folle dimentichiamo la favorita anche secondo me forse con cosa c'è stato il passaggio con The Lobster a arrivare un po' più in alto perché c'era Emma Stone non ce la posso fare no The Lobster Colin Farrell forse quello è stato il passaggio verso l'Hollywood c'era Colin Farrell anche in Il Sacrificio del Cervo Sacro che è dopo due anni dopo però appunto stiamo parlando di Lantimos che ha fatto uscire il suo primo film da co-regista nel 2001 poi Chinetta nel 2005 2009 con Dot Tooth Alps 2011 e piano piano dal 15 forse beh alla fine sono quasi 20 anni non è poco beh non è infatti un esordiente scusami sono quasi 10 anni non è un esordiente non è un esordiente la colonna sonora è di quel folle genio di Gerskin Fendrix che probabilmente vi ricorderete in Povere Creature con il pochissimi suoni io e Flavia vi aspettiamo e probabilmente ve lo ritroverete qui in trasmissione un brano della colonna sonora di Kinds of Kindness che probabilmente verrà rilasciata a film uscito dove è proprio al limite del meme veramente il meme puro e semplice ma anche l'uso della musica è molto buffo e a un certo punto entra Rainbow in the Dark di Ronnie James Dio come un evento anche piuttosto cruciale della storia e dell'indagine di uno dei protagonisti non vi dico altro perché ho detto anche troppo però immaginatevelo proprio al centro di un episodio così veramente come un fulmine a ciel sereno come però anticipato nel trailer di Kind of Kindness arriva Cobra con Branding Beach possiamo dirlo è il ballo della vittoria credo che sia anche girato il video di è il ballo della vittoria di Emma Stone di una delle personagge di Emma Stone Kind of Kindness uscirà molto presto al cinema in Italia l'abbiamo visto in anteprima contemporaneamente a Cannes anche a me è piaciuto sono molto curioso di vedere come reagirà il pubblico quindi se state vedendo questo se state ascoltando questa recensione o state vedendo questa recensione su Youtube avete visto il film fatecelo sapere oppure nel Instagram è a vostra disposizione intanto Flavia riesci a rifare il ballo della vittoria di Emma Stone oppure quello meme istantaneo subito vai non mi ricordo bene che fa fa una cosa strana eh sì spallucce